Tutto secondo copione a Downing Street. Accompagnata dal marito, Liz Truss veste il suo sorriso migliore in avvio di mandato. Ma la nuova premier britannica è attesa da una ardua lista di emergenze da gestire, a partire dall'impennata delle bollette energetiche e dalla recessione economica che si avvicina rapidamente. Truss ha trascorso le prime ore al numero 10 a definire la squadra di governo. In testa alla lista è il nuovo cancelliere dello scacchiero, ministro delle finanze e quasi Quarteng, noto per essere uno stretto alleato di Truss. Suella Braverman, già procuratrice generale per l'Inghilterra e il Galles, diventa il nuovo ministro dell'interno, sostituendo Priti Patel. Teres Coffey ottiene il portafoglio della salute e diventa vice primo ministro, rendendo il duo di vertice Truss e Coffey il primo tandem, e metuto al femminile della storia britannica. James Cleverly, già ministro dell'istruzione, è il nuovo titolare degli esteri, in sostituzione della stessa Truss, mentre Ben Wallace rompe gli schemi e rimane segretario alla difesa, carica che ricopre dal 2019. La creazione del nuovo esecutivo e la nomina del personale di supporto possono richiedere giorni, dalla sua Truss a numerosi fan, ma anche diversi critici. Perché sono qui? Perché sostengo l'Istrasse e penso che sarà un grande primo ministro per il nostro paese. Penso che il nuovo primo ministro, per molti versi, deluderà il paese. Non credo che sia la persona giusta. Era una liberal democratica e non lo è più. Era una remainer, ora non lo è più. In pieno clima londinese ha piovuto sulla parata di Truss, quarto capo di governo conservatore di fila dal 2010 a oggi. Grazie. Grazie.